Però, Cico, c'è anche un tuo momento oggi. Oggi, grazie a un'applicazione che io ho sul mio cellulare, decideremo il tuo nome da Rappers, ok? Allora, ti farò... Qualcuno gli dà un pugno, per favore, perché non è possibile. Allora, Cico, mi devi dire questa serie di risposte alle quali io ti do... Ok, dici un po', dai, dici un po'. Perché c'è l'applicazione qui sul teletro. Ma poi mi trasformi in un rapper completamente, dici? Una volta che troviamo il nome, succede esattamente questo. Allora, il tuo personaggio... Oh, è Wings! Il tuo personaggio TV preferito, dimmi. Ezio Greggio, Ezio Greggio, ok. Poi, il tuo primo nome è Cico, ovviamente. Il tuo secondo nome è Toby, mi sembra ragionevole. Poi, il nome di un criminale, beh, direi il killer, mi sembra ottimo. Il killer, sì, sì, sì. Poi, qualcosa che ti piace un sacco, salame. Capipo, capipo. No, no, mettiamo il salame. Ma le mucche! Un aggettivo che descrive la tua musica, tossica, va bene? Sì, va benissimo. E un tuo animale di quando eri piccolo, secondo te è una cosa bella? Un cavallo, per esempio. No, la mumucca, mettiamo. La mumucca, ok, very nice. Allora, ti dico i tuoi nomi che ti sono usciti, poi puoi scegliere un po' tu. Ah, bellissimo. Greggio Greggio Gru. Eh, ti piace? Oh, Greggio, greggio è bellissimo. Oppure Salame Killer, che ne dici, Salame Killer? Poi, poi? Però devi stare fermo come un nostro cafiso, scusa, muoviti un po'. Tocca, poi? Cicadonna, eh? Cicadonna, bello, cicadonna. Non mi piace? Toz Killer. No, no, il primo com'era, il primo? Greggio Greggio Gru. Greggio Greggio Gru, esano io. No, aspetta, aspetta. Cicca Cicca T? Eh, Cicca Cicca T è fighissimo. Big Mucca. Big Mucca. Big Mucca è bello. Big Mucca ci sta un casino, eh. Killer Ciciller. Dai, Killer Ciciller è fantastico. Mamma mia. Toxic Doc abbiamo Killer Shiller, Killer Caterpillar. Possiamo dire Big Ciciller. Culo. Com'è quello? No, culo nel senso cool. Cool o toby. Capito? Culo o toby. Culo o toby. Se non è che ci sta un casino, culo o toby. È bellissimo. Ok, allora ti insegnisco che sei pronto? Cosa sono? Allora, io ti insegnisco col potere del rap qui oggi conferitomi dal mastro Eminem in Eminem. Io ti insegnisco, com'è che era? Aspetta. Culo toby. Culo o toby. Magico. Sono culo toby qui. Fermo, fammi fare un giro intorno, devo vedere bene. Pazzesco. Che roba. Che stile. Ho trovato anche questa con la nozza. Wow, wow. E vuoi una anche tu? Sì, sì, sì. Alla grande. Questa con la nozza. Questo è oro. Paterina. Mettila con la nozza, vai, vai. Vediamo un po' come... Wow. Mamma mia, ancora meglio. Il gold, il gold. Il ghiaccio ci serviva però. Una roba di diamante. Non ce l'avevi una roba di diamante invece che tu? No, non lo dite. Ho questo più.